quindi la confederazione si sta preparando agli scenari che potrebbero presentarsi in caso di penuria energetica durante il prossimo inverno se le banche le telecomunicazioni e trasporti dovessero subire dei periodi di blackout scrivono dalla svizzera quali sarebbero le conseguenze per la popolazione elvetica quali sarebbero gli scenari ne parliamo in questo video ragazzi ben ritrovati all'interno di questo canale la svizzera si prepara come puoi leggere da questo articolo alla possibilità di un blackout e si dice la possibilità la possibilità non vuol dire che questo avverrà ma che comunque si stanno preparando proprio come in italia direi mi hanno inoltrato ieri una mail dalla svizzera tv svizzera.it c'è chi insomma è iscritto a questa newsletter e in breve vi leggo adesso qualche frase di questa mail per poi passare agli scenari cari lettrici e cari lettori le temperature elevate di questa torrida estate non lasciano la presa nemmeno in questa fine di agosto ma i pensieri sono rivolti alle fredde giornate del prossimo inverno che è senz'altro la prima delle preoccupazioni degli svizzeri e delle svizzere e della politica così come proprio in italia il presidente della direzione di swiss grid che è la società che gestisce le reti elettriche nella confederazione ha annunciato che se ci dovessero essere dei blackout saranno già conosciuti il giorno prima in concreto ha spiegato il dirigente in un'intervista al quotidiano la libertà gli operatori del mercato elettrico ci forniscono i programmi di scambio di energia previsti e se non sono equilibrati chiediamo loro di immettere maggiore energia nella rete o di ridurre automaticamente i consumi normalmente si precisa le centrali dispongono di riserve per ripristinare l'equilibrio della rete per alcune ore ma entriamo nel merito insomma degli scenari previsti dalla confederazione elvetica che si è riunita e ha invitato tutti i rappresentanti delle infrastrutture critiche del paese a berna l'operatore telefonico swisscom c'erano anche i rappresentanti delle ferrovie federali svizzere diverse banche e molti altri hanno immaginato gli scenari possibili si legge in caso di carenza di energia o persino di blackout nel campo delle telecomunicazioni si legge per esempio un partecipante è rimasto scioccato dall'apprendere da swisscom che il piano di alimentazione di riserva si basa su una autonomia di un'ora per tutte le reti in altre parole dopo un'ora di blackout le antenne dei telefoni cellulari smetterebbero di trasmettere perché le loro batterie sarebbero scariche i centri di calcolo potrebbero continuare però ad operare per almeno 72 ore grazie ai generatori diesel un altro argomento che è stato discusso durante la riunione è stato il traffico dei pagamenti parliamo di banche se i sistemi elettronici fossero paralizzati e si dovesse ripiegare sul denaro contante la sfida sarebbe quella di rifornire i bancomat di banconote soprattutto di farli funzionare però da swiss banking spiegano sì ci sono delle situazioni dicono nelle quali è più sensato chiudere la banca e per questa ragione si legge che la confederazione raccomanda ai cittadini di avere un po di contanti in casa per i beni di prima necessità per qualche giorno esattamente come sta avvenendo in italia si parla di una possibilità che magari non accadrà mai ma qualche indicazione no sulle telecomunicazioni sulle banche e a breve sentiremo sul trasporto bisognerebbe darla che ne dite ma accontentiamoci ragazzi accontentiamoci perché già tanto che da ieri sì sì da ieri i telegiornali soprattutto i direttori che sono rientrati dalle ferie stiano comunicando che i prezzi del gas saliranno alle stelle durante il prossimo autunno inverno già è tanto insomma che arrivi un po di informazione ovviamente l'approccio che vedrete sarà allarmistico perché non c'è più un mario draghi al governo non sarà propositivo cioè non verranno illustrati possibili scenari e si cercherà di capire quali sono le conseguenze come adeguarsi infine vi dicevo è stato menzionato il trasporto in caso di blackout generale il rappresentante delle ferrovie federali svizzere ffs stima l'autonomia energetica del sistema ferroviario a circa un'ora ossia il tempo di riportare i treni alla stazione ovvio si tratta di scenari estremi lo ripeto si tratta di scenari teorici ma che oramai non possono più essere ignorati o persino totalmente esclusi perché perché sono pazzi perché quelli che stanno portando avanti tutta questa pantomima e non sto qui di nuovo a ripetermi non possono attualmente allo stato delle cose se vogliamo essere seri escludere un blackout non è nella speranza che noi possiamo scongiurarlo l'ultima volta che ci siamo avventurati sulla speranza o su speranza abbiamo fatto una brutta fine ora se in svizzera voci autorevoli ci dicono che saranno eventualmente informate le persone il giorno precedente vorrei capire chi è che ce lo racconterà o ce lo dirà qui in italia eventualmente capisco che è una magra consolazione ma meglio che niente voi che dite questo video era solo per sottolineare alcuni degli scenari alcune delle ipotesi in campo fatte in altri paesi che potrebbero accadere anche nel nostro dato che la differenza tra la svizzera e l'italia è proprio piccola sta nel fatto che di là ne parlano di qua non bisogna parlarne non bisogna parlare ancora più piccola sta nel nostro dato che si chiama